ciao sono madara sono nata il 12 luglio 1997 a mingora in pakistan ma attualmente vivo nel regno unito sono conosciuta perché nel 2012 mi sono battuta per i diritti all'istruzione infatti cercavo di dare la possibilità di andare a scuola e di studiare a bambini molto meno fortunati di noi sfortunatamente però un giorno mi hanno sparato la testa mentre tornavo a casa da scuola perché molti non erano d'accordo con ciò per cui mi stavo battendo nel 2013 sono volata a new york per parlare di ciò che ho fatto alla sede centrale del l'organizzazione mondiale delle nazioni unite grazie a me ora molti bambini hanno la possibilità di andare a scuola il 10 ottobre 2014 ho vinto il premio nobel per la pace avevo solo 17 anni oggi ho 22 anni e settimana scorsa mi sono laureata in filosofia politica ed economia a oxford una delle più importanti università al mondo non so cosa mi riserverà al futuro ma so che continuerò a lottare per i diritti dell'istruzione per molti di voi la scuola potrà sembrare noiosa ma l'istruzione è molto importante bene ragazzi questo era il nostro personaggio per il continente dell'asia spero vi sia piaciuto ora tocca a voi mandarci un messaggio di cinque righe su cosa ne pensate di questo personaggio ciao